Qui al Moto Days? Sì. Ok, buongiorno a tutti, siamo al Moto Days con una bionda, come si chiama? Bionda italiana. Bionda italiana perché lì prima abbiamo intervistato tutte bionde e more, ciecoslovacche, straniere, cubane, addirittura una tunisina. Tu ti chiami Marina? Sì, proprio Marina. Marina, di dove sei? Sono nata qui a Roma. A Roma? Sì, sì. E siamo, sei una ragazza immagine, hostess di questo stand di vetture ecologiche, è vero? Esatto, elettriche. Tu che moto hai? Moto, macchina, che cosa hai? Ma io in realtà da quando ero piccola che approvo le macchine elettriche, tant'è che a 14 anni avevo la Ligia, a 16, la Aixam. Ah, la Ligia è elettrica, è vero? Sì. Quella, le auto, quelle piccoline elettriche. Sì, certo, la Aixam anche. Sì. E sono tutte comunque vetture a energia solare, elettriche che fanno risparmiare anche, oltre il rispetto per l'ambiente, a energia solare. Queste invece sono elettriche, ci sono anche quelle a pannelli solari. Anche a pannelli solari, quindi sei molto, diciamo, io neanche lo sapevo che esistevano ma come prototipi, invece a te camminano proprio così. Beh, no, ovviamente esistono dagli anni 70, gareggiano anche. E tu ce le hai avute? Perché mio padre è ingegnere elettronico. Complimenti, quindi... Quindi sì, le ha costruite proprio lui le macchine. Non in questo stand, vogliamo dire il cognome, allora vogliamo dire salutare papà? No, non mi sembra il caso di salutarlo, non è il cognome, non è da lui. Va bene, allora quindi... Però saluto mio padre. Quindi rispetto per l'ambiente, economicità, e tu che fai nella vita? Io lavoro come modella, ballerina, hostess... Cosa balli? Ballo in discoteca. Sul cubo? Quindi animazione, cubista, sì. Che discoteche? Eh, in giro per Roma ovunque. Ho capito, no, giusto io cerco di prolungare anche per far vedere alla regia e per riprenderti il più possibile. Cosa riprende? Chi la c'è? Eh? Che cosa sta riprendendo? Un po' di tutto, i tuoi capelli, il tuo corpo e anche lo stand, però sei anche simpatica e intelligente. Quindi abbiamo mandato un messaggio molto positivo in questo video, oltre che la bellezza di Marina, anche l'utilizzo e la promozione di macchine a impatto ambientale positivo, perché tu sai che l'ambiente, no? Ma veramente, io ho un discorso proprio a livello umano, oltre che appunto ecologico e per risparmiare, cioè bisogna veramente farlo per il nostro presente e futuro. Certo, perché la terra è un qualcosa che ci è stato lasciato e che noi dovremmo lasciare ai nostri figli, no? E se si vuole imitare il danneggiamento, sinceramente ne vale la pena. E questi, questi automobili, siamo nello stand Evoluzione Ecologica PMG, no, PME, PME, elettrica, il sito è PMECOL.com e trattino Evoluzione Ecologica, abbiamo dei segui elettronici, delle biciclette elettroniche e anche questa macchina elettrica, la PME Meridiana e anche altri segui evoluti, quindi molto bene, complimenti Marina, ti lasciamo. Le faccio parlare col responsabile, come no? Va bene, comunque già abbiamo detto grosso modo un po' di tutto quanto e un saluto. Ecco qui il direttore. Direttore, buongiorno, stavamo parlando con la ragazza che già ci ha spiegato parecchio del rispetto per l'ambiente, diciamo, prodotti che hanno, e mi diceva che lei addirittura già aveva una macchina con pannelli solari, pensa un po'. Queste però sono tutte elettriche, giusto? Tutte elettriche. Abbiamo visto anche dei segui un po' più evoluti come questo. Questo è un segui. Il segui praticamente è quello, diciamo, quello americano. Quello americano. Questo a livello tecnologico è un mezzo un po' più avanzato, che ha delle cose particolari, riconoscimento col dito, praticamente del mezzo, personalizzato, molto più potente anche. Che velocità raggiunge? Scusa regia, inquadra a livello generale, che velocità raggiunge questo segui? Massimo 20 km orari. Questo qui, 20 km orari. Comunque grande manovrabilità, io li ho portati, ho un mio amico che comunque si occupa anche lui di segui, è molto comodo per la città. Tu l'hai provato? Allora te ne faccio operare questo così vediamo la differenza. Magari, dopo vengo a provare, dopo che ho fatto alcuni video. La cosa interessante sono anche le automobili, soprattutto elettriche. Macchine elettriche, questo è un mezzo che è uno dei pochi... Ecco, riprendiamo anche Marina, intanto che riprendi la macchina. È uno dei pochi vetture che è stata omologata anche per camminare su strade exurbane, perché questa macchina fa intorno ai 140 e 180 km di autonomia in condizioni ottimali. Il telaio è tutto in acciaio, a differenza di molte altre che sono in Pietrovesti. È una macchina... Velocità di punta, massima? Massimo fa 45 di legge. 45? Sì. E senza l'economizzatore fa intorno ai 65 km orari. Però la macchina che ha l'aria condizionata, questa qui... Per la città è comoda, insomma. Comodissima, sì. Poi 4... La carica la notte, la mattina esce... 5 ore, 5 ore la macchina a carica. Quanto vogliamo parlare di prezzi? Questa... Questa qua è così, approfittiamo per inquadrare di nuovo la Marina. Guarda, la macchina costa tutta accessionata a 12.700 euro, con aria condizionata, petri elettrici, ha praticamente moltissimi accessori. Ma compresa anche la... C'è una centralina o niente? Si attacca direttamente alla presa a 220? Si attacca come un cellulare, uguale. Ah, proprio quindi comodissimo, non c'è bisogno proprio... Plug and play, come si dice? Easy go. E c'ha praticamente il fatto che ha la possibilità di avere... Con 4.000 ricariche, 4.000 ricariche praticamente sono 5 anni. Che significa 4.000? Ah, cioè sopporta... E poi cambia la batteria eventualmente. Sì, cambia la batteria, sì. Ho una domanda, ha detto signore, scusi? Giorgio. Giorgio, che è il titolare di questa azienda, che è a Roma? Roma Pomezia. Roma Pomezia, quindi che vende queste... Vogliamo dire di nuovo il nome? Una fabbrica. Una fabbrica, quindi producete proprio le auto... Fantastico. In Italia, in Cina, abbiamo una joint venture tra l'Italia e tra la Cina e il Giappone. Quindi avete la progettazione, la costruzione, manodopera, immagino in Cina che costa di meno, come tutti, purtroppo. E appunto il sito di riferimento è PM PM... PME... PMEcol.com e signor Giorgio ha detto, volevo dire una cosa, quanto costa a livello di... cioè, quanto assorbe di watt la ricarica elettronica? Allora, la ricarica completa sono 95 centesimi. Incredibile. Quindi assorbe pochissimo proprio. Guarda, ti faccio... Cioè, non è che scatta al contatore un watt? Un watt. Noi qui abbiamo due kilowatt. Due kilowatt. Due kilowatt. Avete allo stand a disposizione? Noi le carichiamo tutte e due praticamente. Consumano più i fari, praticamente. Sì, bravo, bravo, bravo. Incredibile. Aspettavo... No, no, perché è importante. Io sono ignorante, credo, vabbè, ma quanto costa ricaricare elettricamente questa cinque ore? Costerà l'indirattivo? Invece non costa niente. No, no. Poi, macchina che paga 50% di... Quindi è la batteria che vale parecchio, diciamo. Paga 50% di assicurazione, non paga il bollo. Non paga benzina, perché non paga niente. Paga niente. Giusto queste 12.700 euro, ma... I parcheggi praticamente sulle fasce blu si paga niente. E a livello di meccanica, se si rompe un peso, uno viene da lei, no? Vabbè, la macchina ha due anni di garanzia, molto probabilmente il prossimo anno la passiamo a tre, anche perché poi usciranno dei modelli successivi. I modelli successivi uscirà un pick-up, uscirà proprio una vettura totale, perché questo è un quadriciclo, è stato calcolato come mezzo. Si può portare a 16 anni? A 16 anni. Quindi è veramente comodo. Oh, invece una curiosità, poi chiudiamo, signor Giorgio. Un segway come questo, quanto costruito da lei? Se mi dai del tuo, allora mi fai sentire più vecchio, no? Ti do del tuo? Scusa Giorgio, senza signore, no? Perché è brutto. Prima... Giusto. Allora, quanto può costare questo segway che vedo bello robusto? 5.400 al pubblico. 5.400? Va bene, allora noi andiamo a chiudere in bellezza, senza nulla togliere a lei... A te, Giorgio, scusa, andiamo a chiudere con Marina, è così... Insomma, no? Chiudiamo con in bellezza. Comunque è stato molto utile questo video. Poi... Ok, grazie, a dopo.